Caffetteria, ristorante e pizzeria, accessorie fai da te, noleggio auto e moto a breve e lungo termine, officina, carrozzeria, centro revisioni e ancora concessionaria moto, concessionaria auto. Tutto questo è Movi, il primo Mobility Village italiano. Nuovamente insieme amici di Auto Occasioni, come sempre qui da Movi in compagnia di Francesco Signoretto e quest'oggi parliamo dell'ufficialità del marchio Mitsubishi, perché vi ricordo che Movi è concessionaria ufficiale Mitsubishi, tutta l'intera gamma, pronta da essere acquistata, ma soprattutto, attenzione perché questo è un mese speciale qui da Movi, vero? Sì esatto, è proprio il mese Mitsubishi, perché chiunque acquista un'auto da noi entro fine anno godrà di sconti fantastici. E allora, bando alle ciance, come si suol dire, mettiamo le chiavi nella toppa e mettiamo subito in moto la grande macchina Mitsubishi e scopriamo insieme le grandi offerte targate Car Outlet, Movi, concessionaria ufficiale Mitsubishi. E partiamo subito sulla novità del mese, la nuova SX, vostra a partire da 22.950 euro. Non ci dimentichiamo delle Space Star, in occasione a partire da 7.650 euro e abbiamo ancora disponibili delle unità della SX GPL, ultime unità veramente a prezzi fantastici da scoprire qui da noi a Movi. Un intero spazio è interamente dedicato all'automobili chilometri zero, aziendali e d'occasione. Si chiama Car Outlet e attenzione perché le opportunità d'acquisto ci sono per davvero, pronte da essere portate via chiaramente al miglior prezzo. Parliamo di Fiat 500L, 1.3 Multijet 95 cavalli, versione Popstar. Appena 20.000 i chilometri percorsi, full full optional, attenzione al prezzo Car Outlet 10.650 euro. Altra opportunità sempre di Fiat 500L, una versione 1.3 Multijet, sempre Popstar, 2018 il suo anno di immatricolazione, vettura aziendale pari al nuovo, prezzo 12.990 euro. Vasta scelta di Giuliette, vari modelli, allestimenti, colori, qui da noi alla Car Outlet, vetture rigorosamente tagliandate dalla nostra officina e fino a tre anni di garanzia, ad esempio 1.620 cavalli con soli 23.000 chilometri, del 2018 recentissima 12.250 euro l'offerta Car Outlet. Il mese di dicembre è il grande mese qui alla Car Outlet della Fiat Tipo. Le abbiamo quattro porte, cinque porte, station wagon, benzina, diesel, chilometro zero, aziendali usate. E, novità delle novità, con l'offerta Ecofinanziamento EcoShock, 13.350 euro la Tipo GPL vostra. Non manca la Car Outlet, il marchio giapponese, in particolare la Mazda, la CX-3. Questa è bellissima, 18.700 chilometri, quindi veramente bassissimo il chilometraggio, con il navigatore Xeed accessoriatissima, 16.900 euro l'offerta Car Outlet. Car Outlet vi dà la possibilità di scegliere. Se cercate una Jeep Renegade, qui da Car Outlet ne trovate di diversi tipi di allestimenti e motorizzazioni. Pensate, questa è una chilometri zero, parliamo di un 1.000 di cilindrata a 120 cavalli, una versione già full optional, addirittura con i cerchi in lega da 17. Il prezzo piccolissimo, automobile, ripeto, nuovo a chilometri zero a 16.750 euro. Cercate un fuoristrada? Venite da noi, che le trovate tutti. Abbiamo ad esempio questo bellissimo Ford Kuga, un 2.000 TDCi, col cambio automatico, una versione bellissima, introvabile, l'ST Line, già con navigatore e retrocamera, un full full optional. Vettura sempre tagliandata e che ha due anni di garanzia, ma possiamo arrivare fino a tre anni di garanzia per questa vettura. 23.450 euro il prezzo. Per chi cerca l'eleganza, il comfort e non vuole rinunciare al 4x4, abbiamo un Ford Edge con un bassissimo chilometraggio, 38.000 chilometri, del 2017, full full optional, 210 cavalli, titanium, 26.650 euro il prezzo, anche questo fino a tre anni di garanzia e finanziabile in piccolissime rate. Altro piccolo grande fuoristrada, parliamo di un Suzuki Vitara 1.6, 120 cavalli, quattro ruote motrici, 2017 su anno di matricolazione, 30.000 i chilometri percorsi, quindi automobili ancora tutta da sfruttare, pari al nuovo, prezzo Car Outlet 18.990 euro. Solo 9.900 euro per un'auto che ha percorso appena 16.000 chilometri, quindi pari al nuovo, l'avete riconosciuta, parliamo di Ford Fiesta 1.5 TDCi, qui in Car Outlet 9.900 euro. Super economica, Fiat Punto 1.2, 69 cavalli, versione street, 40.000 chilometri percorsi, 2018 l'anno di matricolazione, già full full optional, il prezzo 6.450 euro. La nostra forza è la possibilità di farvi veramente scegliere tra vari colori allestimento, ad esempio le Panda, guardate quante ne abbiamo, di tutti i colori allestimenti, benzina, diesel, ma soprattutto le versioni GPL chilometro zero a partire da 10.450 euro. E fine anno è quindi il mio momento migliore per approfittare delle detrazioni fiscali. Car Outlet vi riserva un angolo dedicato a tutti i veicoli commerciali, dai più piccoli come il Fiorino, ai Medi come potrebbe essere un Talento, bassissimo commetraggio tra l'altro per questo esemplare, e poi il Ducato, quello un po' più grande, sia trasporto persone che trasporto merci. E allora amici, avete capito bene, qui trovate concessionaria auto e ancora concessionaria moto, e poi officina, carrozzeria, centro revisioni, noleggio auto e moto a breve e lungo termine, accessorie fai da te, ristorante e pizzeria, caffetteria, tutto questo è Movi, il primo Mobility Village italiano.